musica 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 ma dio musica io pure spesso su youtube non faccio qualche like qualche volta ah c'è un'elicottero buggato musica 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 WTF?! WHAT?! WTF?! è su quel palazzo magari vedi qualcuno aspetta aspetta stavo a fare qualcosa qua ecco ma io voglio morire però non c'è nessuno io qua sono morto, mi hanno scelto due team a me cioè a te ti spavano due team ma a me non c'è nessuno a me ci sono due team e io da senza armi vediamo qualcuno mi spara vanno cadere e muo' già magari fai un salto it was at this moment that he knew he fucked up pensavo di avere materiali eh però dove sono i nemici? non ci sono mi sento per tanto non ci sono a buggera o a insetto stai andando insetto non fuori sento come stai andando tu perchè mi stai postando fuori sento quando ti preoccupare? io non ti preoccupare lei mi vuole far morire guarda ci siamo più veloci noi del raggio grazie grazie hai lasciato l'elicottero vicino a cosa mia mi ha esploso il grado in bocca venga usciamo da qua da me a terra no per scusami scusami mi sono auto ucciso si dovrebbe essere liberato un posto ok grande era bella perché c'erano delle armi che c'erano a giù ma ho questo che non possiamo fare ah sono morto sono caduto no certo di non usare da barbolo ragazzi no è venita che fate che fate vabbè arriviamo più in aria è matti no è niente la baccava se la baccava lasciala andare anzi finchè la baccava lasciala andare finchè la baccava se a bai ti dono 50 euro io sono ti dono tanto se fai il cane io sono come san tommaso se se non vedo non credo il brano più noto del vangelo che riguarda tommaso è il famoso episodio dell'incredulità dopo la risurrezione di gesù se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato non crederò ma otto giorni dopo quando il signore appare di nuovo ai discepoli tommaso esclama porco dio no forse mi bussia c'è gente surprise motherfucker mi bussia una casa da me madonna mia cerco di venire più possibile per favore la mia assistenza io lanciarazzi ma sono scesi già lanciarazzi e vivono no cerco di venire a dare vita ho trovato uno scar vengo sì ma vanno a prendere vita ugualmente ma tu dove ma è vero ma è vero no scusate è appunto ma perchè questo qua è sceso a parco si è sceso a parco si è sceso a parco dimmi tu perchè sei sceso a parco me lo vado a uccidere è ferro no no scusa scappa scappa no no ho un pezzo in verde non ti voglio uccidere no 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 mi dissocio mi dissocio quello che ho detto no no non lo voglio dire più mi dissocio ma non c'è più ragazzi se non c'è più nessuno io mi suicido cioè nel gioco vai da dov'è che mi stai sparando eh fatti vedere non ti nascondi it was at this moment that he knew he fucked up no no tío no tío porco no porco cioè stavo dicendo porco zio c'è niente tío bonbino c'è ah c'è la parola di no c'è la parola di no c'è la parola di c'è la parola di ultimo si 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 mi chieda tutti i gatti oh cosa fai oeeeh muori spero me lo però me l'ho fatto la kill eh sì il gatto oh Nicola va no mi fa entrare di offro Gopo